ciao ragazzoli da san poteta 3 eccoci qua su watchdogs su xbox one dobbiamo acquistare un fucile un fucile blu un fucile qui allora porca miseria se c'ero qua devo andare dietro ecco perché non lo trovavo bene eccomi c'è un poliziotto anno erano un manichino dammi che cavolo devo prendere io mi serve qualcosa dammi in prima di prestino le munizioni 6 g 416 ecco il 416 questo acquista che succede le settimane i centri ctos di chicago hanno aumentato la sicurezza a causa di numerosi attacchi del gruppo di hacker perfetto la visione compiuta ha risposto alle nostre domande la sicurezza è fondamentale quindi abbiamo potuto entrare anche di qua sono tutori dell'ordine la ruota delle armi hanno la fedina penale sporca hanno prestato servizio nell'esercito ma non dobbiamo punire i nostri soldati ma non metti via metti via la rete sitios è ben protetta e questo dai cittadini ok abbiamo già fatto e meritano abbiamo sentito la portavoce della blu andiamo qua che cavolo dobbiamo fare qua no andiamo qua ma scusi posso andare anche di qua no di qua così staccavolo di visuale ok fatevi un bel schianto ora facevamo la fame eravamo in 7 miei fratelli mia sorella e mia madre vai vai però qua rispetto di gta non vedo volanti della polizia che girano non penso backstage pass trova una guarda con il codice di accesso di accesso esplosivo acchiarato uccisione criminale e io sto facendo un po' può chiamare i rinforzi madonna quante ci sono telecamera ah perfetto questo qua ce l'ha addosso ah eccolo qua devo no 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 fatti vedere anche la guarda con il codice di accesso uso il codice di accesso per arrivare ai server codice di accesso allora codice ah eccolo qua ok 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 facciamo così perfetto vediamo se riusciamo a dare telecamera esplosione telecamera telecamera andiamo qui uh e quello con la telecamera dov'è non vedo niente no 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 vai 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 lì no 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 uh in extremis bravissimo attira perfetto perfetto mi sono infiltrato che cavolo devo fare ok ok devo devo girarlo no così ah ok devo tipo ruotarli così perfetto 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 sblocca così porca miseria ok acera acera cioè praticamente non mi sono neanche mosso dal cancello io senza neanche potrevo entrare e ammazzar tutti oppure chiudi il video hackeriamo questo chiudiamo anche questo video oh hacker ho tutto io non mi interessa così ho hackerato tutto no questo vai che devo fare adesso ah forse mi attiva le le antenne di questo quartiere qua mmm bene 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 mi piace mi piace perché così adesso io mi sblocco le antenne trovo un giocatore da hackerare ok perfetto ok perfetto ok perfetto abbandona l'area ok è stato più semplice fatto backstage pass l'abbiamo fatto l'accesso al quartiere sbloccato ben fatta abbiamo tenuto un livello no esperienze però io si sta salvando perfetto e quindi noi ci fermiamo qui ragazzuoli e ci sentiamo vediamo un po' gli servono testa lo facciamo casomai dopo ciao ragazzuoli da sambodato 3 bye bye At해설 vi vi Grazie a tutti.